E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E questo oggi giocheremo a Youtubers Live E andiamo subito a salutare i nostri 5 eroi del giorno Che per oggi sono Linda, Antonio, Lamarti, Freyde e Blackwall Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione E direi che oggi è arrivato il momento di provare a conquistare il cuore di Diana Che ne dici? Sì, 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 sono prontissimo Ormai abbiamo dimenticato Tessa E siamo pronti ad andare avanti Dopo la vendetta ormai direi che i conti sono stati pareggiati, non ti sembra? Visto che hai dimostrato provandoci con Tessa che sei brava con le ragazze Che cosa hai in mente questa volta? Lasci le cose a me, ma guarda che pece hanno mollati Quindi non so se sono poi così brava, ma vabbè, sono contenta della fiducia Allora, io pensavo, siccome non conosciamo ancora bene Diana Non abbiamo la possibilità di invitarla nel nostro appartamento Bellissimo È stupendo, scusa, cosa stai criticando? No, no, è bellissimo Io direi di andare a qualche parte, vedere se anche lei partecipa Perché solitamente la trovavamo sempre nei parti E cercheremo di farci amicizia Ti piace come piano? Sì, e so già a che parte andare Allora, il party perfetto, guarda qua Andiamo a ballare vestiti da mostri Allora Sì Siccome nell'altro party in costume, che sai che io li adoro Non hai comprato il costume Già dando la colpa a me, va bene Esatto, perché era stata colpa tua Quindi direi che la prima cosa che facciamo Ci compriamo subito il costume Così siamo sicuri di essere vestiti a dovere Sono pronto No È comparso Spider-Man Non c'era Io voglio vestirmi da Spider-Man L'avevo detto anche per l'altro Sicura? Voglio vestirmi da Spider-Man Sì, 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 sì Andiamo Allora Non costa neanche troppo Cioè l'altro costava 120 solo Non costa neanche troppo Mi stai facendo buttare tipo 180 Solo perché tu vuoi andare ad Halloween No È un investimento necessario per conquistare Tessa Scusa Perché altrimenti se tu non ti vesti in costume Sai che succede Lei ti vede Ti vede vestiti in un altro modo Dice ma questo qua non capisce nulla È un party in costume Ci possiamo comprare degli occhiali fighi Anche se non c'entrano nulla Dato che non abbiamo la maschera Ci mettiamo tipo questi occhiali verdi Tamarri No, prendiamo quelli Questi con le righine Questi? Di che colore? Rossi Ok Perché sei Spider Va bene Allora, capelli non ce ne sono Perché proprio per Spider-Man Non c'è la maschera Perché vabbè si dovrà vedere stare Nikki in faccia D'altronde È arrivato il momento Possiamo vestirci per il party Su, su, su Metti Guarda che bellino È troppo carino Allora, pantaloni Che poi Ci hai fatto caso una cosa Assomiglia pure proprio allo Spider-Man del film A quello nuovo o vero? A quello nuovo A quello nuovo All'altro no Però a quello nuovo sì Però gli occhiali danno un tocco in più Dai Un tocco di classe Non è vero Non è ancora notato cosa ha aggiunto No, leva la collana Leva la collana Dai Siamo pronti Già abbiamo gli occhiali Ci manca solo la collana Madonna è bruttissimo con questi occhiali Era così carino Sembrava proprio Peter Parker L'abbiamo rovinato L'abbiamo rovinato Povero ste nemichi Io non so se andrà bene come il look per Diana Però vabbè Però almeno capiamo un po' il suo carattere Guarda gli altri come sono vestiti Questo è fighissimo Questo è Marques È Marques Allora non è più figo No, no Fa il tuo vestito fa schifo Non andare a parlarci Non andare a parlarci Allora cerchiamo Diana Allora Diana Non dirmi che non c'è in stopparti Allora lei non è Giusto? È bionda Diana No? Eh lo so ma siccome sono tutti travestiti Quella è Tessa vero? Mi sa di sì No È la gemella di Tessa Quella che ci confonde ogni volta È uguale identica È vero Non dirmi che non c'è Ci sto rimanendo malissimo Non c'è Stiamo chattando con Diana Io spero che ci accetti Ma come sale veloce la barra Quando chatti invece che parlare Ma è una figata Eh ha ragione Sale veloce O forse perché ancora non la conosciamo Ok La possiamo invitare? Mi sa di sì Aspetta aspetta Guardate Guarda Secondo me sai che cosa è successo Che Tessa ha saputo Dello speciale che abbiamo fatto su The Sims E adesso ci odia Perché questa è proprio la faccina dell'odio Cioè io non avevo mai visto una faccina così arrabbiata Proprio mai nella vita È bellissima È una figata Che poi Io farei ancora notare una cosa Sì Cioè è lei quella arrabbiata Sul serio? Lo sai Cioè dobbiamo essere noi quelli arrabbiati Non le Devi far finta di nulla Sì la possiamo invitare a casa Diana nel frattempo è diventata a livello 23 Non era 21 Mi sa di sì Guarda quanto ci costerebbe al mese Un livello del genere 1200 dollari al mese No è troppo È troppo È impossibile Ok sto arrivando a casa Sono emozionatissima Sono emozionatissima Guarda che carina È più carina di testa Dai è più carina di testa Si veste proprio all'ultima moda Potremmo chiedere di fare un video assieme Perché Kate Magari Collaborando un po' Facendo vedere che siamo molto bravi a fare i video Magari un pochettino Anche perché lei è una youtuber importante Quindi ci giudicherà anche in base al nostro canale Ma io credo che ci giudicherà in base ai vestiti che abbiamo in questo momento Lì è carinissima È venuta Cioè è venuta vestita benissima Troppo carina Guarda noi Guarda noi Ci saremmo dovuti cambiare almeno un pochettino Assolutamente Proviamo a fare la collaborazione con Diana Ok 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 non è a voglia Non ha voglia va bene Continuiamo a parlarci un pochettino no? Ci sono rimasto male Eh anch'io Allora Se ne è andata Non è andata malissimo Però ancora non amo sotto interesse Abbiamo raggiunto il primo livello di amicizia Che direi che è buono Almeno non ci odie da subito Esatto Secondo me sai qual è il problema Quale? Prima di tutto Eravamo vestiti troppo male Cioè dobbiamo accoglierla Ma è carinissima Vestiti in un modo un po' più Professionale Esatto brava Un po' più elegante E inoltre secondo me Dovevamo arredare un po' meglio la casa Prima di ospitarla Quindi io direi Ci accumuliamo un po' di soldi Miglioriamo un po' la casa Ci compriamo un bel vestito di quelli seri E la rinvitiamo di nuovo E proviamo a conquistarla come nostra ragazza Sì ci sto Poi mi piace cambiare le cose della casa Mi piace un sacco Quindi ci sono cose nuove per il pc Allora Infatti iniziamo a vedere prima di tutto Le cose per arredare E poi dovremmo guardare anche Il negozio famosissimo di Idea Esatto È lì che voglio andare Per vedere un po' come arredare meglio Per cambiare esatto L'arredamento della nostra casa Pensavo volessi migliorare solo il pc Non ti avevo ben capito No 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 Proprio cose carine Vedi tipo questo skyline Ce lo prendiamo Il cactus Il cactus Ascolta Ascolta Ok Chiudi tutte queste finestre Perché tutte queste persone che ci abbandonano Mi fanno male al cuore Cioè Erwin ci ha detto del tutto Che non vuole più essere amico Quindi abbandonata la possibilità Di averlo come collaboratore Il fatto è che in questo gioco Sono troppo appiccicosi Non mi dicono che tu stai ogni secondo A parlare con loro Ma noi siamo degli youtuber Non possiamo fare questo Sono d'accordo Allora Non mi interessa delle amicizie Io voglio migliorare la casa Compriamoci un trofeo C'è Jumanju Anzi che Jumanji Jumanju Costa troppo dai Ho Monopoli Monopoli te lo concedo Una katana per far vedere che siamo gente pericolosa Ti piace? È figa dai Ma che pericolosa Io vorrei una katana appesa in casa Nooo No quello di minecraft Lo devo avere Minecraft figurine Ti prego lo devo avere C'è il creeper Il creeper Ok Ok Allora Non ci credo Comunque su ho visto una cosa No dai Abbiamo riempito già la carta Ma io ho visto una cosa che volevo in alto Che cosa? Più su È che sei sceso troppo veloce Vai su su Ok La tazza La tazza guarda che bellina Ma 60 dollari No 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 Cambiate idea Non la voglio Ok meno male Compriamo 60 dollari una tazza Abbiamo appena speso tipo 300 dollari in cemenze totali Perché erano davvero inutili Speriamo che almeno li apprezzi Diana No 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 Allora Allora Non cercare di giustificare Ti prego Mi fai male al cuore ogni volta che ti sento dire queste cose È arrivato tutto È arrivato tutto Prima dormiamo Mangiamo Oh no dai Devi prima aprire le cose E facciamo un unboxing bellissimo Sei pronta? Sì Sono felicissima Mi piace troppo Poi dobbiamo accumulare altri soldi E ci compriamo uno di quei vestiti con la cravatta elegante Addirittura Così la accogliamo Ciao Diana Ok Addirittura dici che ci dobbiamo vestire così formali Sì vorrei provare così Per dimostrarle che siamo youtuber importanti anche noi Esatto No no scusaci Ah no ci sta chiedendo di registrare un video Sì 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 questo può essere Per il pc Age of Kingdoms 360 dollari Vai ci compriamo i vestiti facendo questo gioco Ok no facciamolo subito che ogni volta facciamo scadere Però li mette da solo Ah guardalo dove Eh sì li mette un po' dove vuole Quello è un po' brutto non poterlo decidere però è carinissimo Il trofeo lì va bene dai ci può stare E poi abbiamo monopoli Ma ci potremmo giocare secondo te al monopoli È scomparso Ok eccolo No No vabbè Peccato Volevo anche giocarsi Peccato La katana dove ce la mette Vediamo dove va Secondo me Sono finiti Lì lato Te lo sei fatto sfuggire E scompaiono Ascolta li troveremo prima o poi Esatto L'importante è sapere che sono in casa Esatto Prima o poi li troveremo Allora registriamo subito quel gioco Così ci compriamo i vestiti Age of Kingdoms 3 Questo sembra bello Vedi ci giocherei nella realtà Anche io Sembra bello Sto ancora cercando le tipoline di Minecraft Sono zitta zitta Ma la sto cercando Si è rotto il pc Benissimo Però adesso ce lo possiamo riparare da soli La cosa positiva è quella Concentrata Ok Dobbiamo fare un video Capolavoro Guarda le mie energie positive Le prendo Le sto prendendo Oggi stiamo degradando Basta E vabbè guarda come sta registrando Stere unicchi con gli occhiali Ecco qua su Mi fa venire voglia di avere anche a me Queste cose addosso Anche io vorrei quegli occhiali Me li compri? No No? Perché qua li usano solo le persone tamarre Ok Quindi tu non le puoi usare Ok Non posso essere tamarro? No Va bene Perché non ti vorrei tamarro Ok va bene Me ne ricorderò Eccola L'ho trovato Guarda lì Che bellini Ma erano più carini qua sopra il letto però no? Le avrei volute anche io sopra il letto Però sono carinissimi Però sono bellini anche lì No rosse Rosse Oh c'è Diana C'è Diana È arrivata subito Muoviti Muoviti Ci invita al cinema È cambiato tutto il look Ok no Così va bene Perché ci sta invitando al cinema Sì 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 Accettiamo Ok andiamo Non rischiamo subito di capito di rovinare tutto non andando ai parti Vedi ci ha subito invitato a vedere un film Vuol dire che la nostra amicista sta andando bene Sta funzionando Felicissima Ok È stata lei invitarci Questa è una cosa importantissima Adesso ci chiacchieriamo un altro po' Secondo me riusciamo a fare il passo avanti Chissà se c'è Tessa così ci vede da lontano È lei È lei Guardala No È ancora la gemella Ma si chiamava Zaria la gemella Secondo me ha due gemelle No no è lei È sempre lei Allora Possiamo Fare un vlog con lei No ancora meglio Cosa si può fare allora Farle un'intervista Guarda Dai Proviamo Lì fai tu che sei una youtuber famosissima Raccontaci un po' Ok guarda Vedi che stiamo inquadrando lei Ma è troppo bellina Troppo carina È molto più carina di Tessa Continua a dirlo È troppo carina Ha pure i dentini nostri mi sa Quelli che sporgono Immaginati i figli Tutti quei dentini Ci nascono dei conigli Dei coniglietti È troppo carina Sono felicissima Tessa è gelosa Dell'intervista che abbiamo fatto a Diana Guarda il commento che ci ha lasciato È difficile credere che tu vuoi diventare Vuoi essere ancora una youtuber Per favore Arrenditi Cioè ci odia proprio E secondo me Questa Alia È la sua migliore amica Che vedi che anche lei ci ha scritto So bad È stata gelosissima Perché Noi abbiamo fatto l'intervista con Diana Io direi che l'appuntamento È andato anche abbastanza bene È andato molto bene E guarda lei subito che commenta in modo negativo Non imparerà mai È una persona terribile Abbiamo fatto bene a farla fuori su The Sims Non ha avuto il coraggio di presentarsi al film Perché sapeva che c'eravamo noi Dopo quello che ha visto Dopo aver visto quello che abbiamo fatto su The Sims Ha paura di noi E si tiene alla larga Questo è un bene Sì io ho notato Tira giusto un po' di frecciatine sui commenti ma Ho notato proprio che in qualsiasi evento andiamole non c'è mai Esatto Questo vuol dire qualcosa Per forza In ogni caso ragazzi vi facciamo vedere tutte le cose nuove che si possono comprare per il computer Vediamo Perché sono tantissime E sono una figata pazzesca Sono aumentate un sacco Ma costano troppo Non abbiamo i soldi Cioè guarda questo Ma è troppo bello Cioè è un'astronave Capito Io dormirei abbracciato Ma quello da 800 poi che è ancora più bello Ma scherzi Alien e oper Ah sì 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 Vabbè qui le marche sono sempre un po' È bellissimo quello Quello è troppo bello Questo è più bello esteticamente Però nel momento in cui spendiamo prendiamo più stelline Scusami È troppo bello Ma costa un sacco Poi guarda la cattiera C'è astronavi pure queste enorme Gaming fighter key Che non so cosa voglio intendere per fighter Combattente del gaming Esatto È una cosa potentissima Il monitor invece non l'ho capito Guarda È un portatile È un portatile Non capisco Dice ultra slim HDMI Però è un portatile Però sembra un portatile di estetica Non capisco Infatti non l'ho proprio capito Forse magari quella è la base Ti sembra una Non l'ho capito Guarda ti dico la verità È un mistero Questo mouse Figo Hyper fighter Proprio in mouse Guarda la webcam Che bellina Oh mio Dio È troppo bellina Sembra il robotino di Borderlands Ho pensato la stessa cosa Clamp trap Esatto È troppo carino Poi in microfono c'è Questo è il pro mic fighter Tutto fighter Si combatte Invece che fare video Perché su YouTube Questa c'è una filosofia dietro È una giungla Tu devi sempre combattere Con tutti Queste sono le cuffiette fucsia Per te Non è vero Ah guarda è comparso anche Il nuovo programma di editing Final premiere Sicuramente aggiunge ancora Altri effetti Guarda Eh sì Guarda quanti sono Voice Sagnal Non so manco cosa sia Il mirror Ti fai lo specchio Bello Bello Secondo me Anche quel programma Prima o poi lo dovremmo prendere Peccato che non abbiamo soldi Quindi per adesso Non possiamo comprare nulla No per adesso Allora abbiamo speso tutto Per conquistare Diana Direi che è andata bene Per adesso risparmio assoluto Esatto Ok direi di fermarci così Prossimo episodio Conquistiamo per forza Diana Ormai ci siamo vicinissimi Assolutamente Per diventare la nostra ragazza Guarda ti dico di più Prossimo episodio Diana fidanzata per forza Ok Anche perché poi non vorrei Che scappi Prima che Esatto Che sappia di testa O cose del genere Dobbiamo stare attenti Esatto Collaboratore perché Assolutamente voglio Un collaboratore Voglio capire come funziona Esatto Avere un'altra persona Che lavora per noi E penso che sarebbe davvero figo Farlo vedere Ok E poi sai che altro facciamo Sì Cerchiamo di racimolare Sui duemila Tremila dollari Direi Per fare shopping Shopping Sfrenato Magari miglioriamo il pc Anche perché qua c'è da comprare Il pc per il collaboratore Che sono 500 dollari Solo il pc fighissimo Erano 1200 Metti il programma di editing Altri 300 E oltretutto Altre cose per decorare L'appartamento Quindi sì Ci vogliono duemila No basta Ti ho fatto decorare tantissimo Ma c'erano cose carinissime Le voglio No Le voglio No Ragazzi il video è felice così Se vi è piaciuto Aspetta di giù un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao